Guarda che salone, che casa meravigliosa, guarda che sono finiti, bello, 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 mi piace. State forse aspettando con ansia di conoscere il proprietario di questo maniero? Ma se c'è, ve lo annuncio subito, sta sempre senza trifola, però fa niente. Il continuo, figato! Io ho paura, ufficiale, il vampirla, esiste davvero il vampirla? Esiste il vampirla! Ma senti, ma ci sono delle leggende strane sul vampirla, che non succhia solo sangue. Esatto, attento che questo non è il nostro festino, bello. Tutto a posto? Salve, noi ci siamo persi, il suo assistente ci ha dato delle stanze, tutto a posto? Io vado solo a dormire, salve! Anch'io andrei a dormire, mi interessa un Rolex per caso? Vabbè, tu stai lì, stai con lì, ciao! Ciao! Eh sì, ma vado anche io! Rock TV, solo su Sky, canale 718.